Costituente per Battipaglia sabato mattina incontrerà i cittadini per discutere delle problematiche più importanti per il territorio di Battipaglia. Interverranno Vincenzo Inverso, Arturo Denza, Antonio Voria, Raffaele Adesso, Nunzio Vitolo, Pietro Ciotti ed Hermes Schiavi. Dopo anni di piccole idee e grandi delusioni spiegano i membri di Costituente per Battipaglia ci meritiamo un'altra storia. L'incontro si terrà sabato alle 11 presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia per spiegare alla città le idee per il futuro della comunità.